Desidero darti alcune informazioni che difficilmente troverai in giro. Nessuno ti metterà al corrente di questa informazione perché ci sono troppi conflitti di interesse. La totalità delle persone, anche gli amiconi che ti sei trovato, che ti consigliano, sono sempre comunque collusi perché se ti parlano di un broker rispetto ad un altro ricevono sempre l'obolo che poi a veder bene questi geni del marketing sono controproducenti. Io li vedo un po' come le mosche che sbattono sui vetri perché nel momento in cui si vanno ad affiliare ad un broker rispetto ad un altro o ti mettono in affiliazione con determinate piattaforme che hanno determinati strumenti offrendoti ovviamente delle informazioni deviate, colluse, alla fine tu che cosa puoi fare? Sì va bene, puoi essere suggestionato all'inizio, inizi a lavorare, però se hai delle informazioni deviate, non hai delle informazioni corrette, alla fine non duri a mercato. Nella peggiore delle ipotesi perdi denaro, nella migliore perdi semplicemente tempo perché alla fine ti ritrovi a dover investire del tempo su un progetto che poi non porta dei risultati semplicemente perché tu ti impegni su un qualcosa che non ha un riscontro sul mercato. E alla fine chi ti ha consigliato cosa può guadagnare? Non guadagna assolutamente nulla, briciole perché il tuo percorso si brucia in pochi istanti, in poche settimane, in pochi mesi, quindi loro che cosa possono guadagnare? Quindi questi geni del marketing oltre a non essere in grado di darti delle dritte corrette sul mercato per farti durare dimostrano anche di non avere competenza nel gestire un business che può essere un'affiliazione con il broker, a meno che con quest'ultimo lui percepisce addirittura una commissione, una percentuale o sul tuo deposito o sulle perdite che tu hai generato. Chiuso questa parentesi, oggi sveliamo un'altra verità scottante. Partiamo dal principio. Suppongo che la maggior parte di voi conosca la GMAT FX, quindi i piani della GMAT FX. Tuttavia, per chi è nuovo, ricapitoliamo. Nel plane A noi abbiamo due piani, plane B e plane A. Concentriamoci sul plane A che è quello più semplice perché il plane B risulta anche un po' difficoltoso spiegare il meccanismo che c'è dietro. Noi abbiamo qui una sezione in cui, in base al colore, impostiamo i vettori sui piani cartesiani. Principalmente abbiamo il colore giallo per lo yen, il colore fucsia per il franco svizzero e il colore azzurro per il dollaro canadese. Bene, la cosa straordinaria del mercato monetario è che è un mercato che non ha inefficienze. Quindi anche tutti quelli che ti parlano di inefficienze, ah io sfrutto inefficienze, a meno che non sfruttino latenze, ping, con le connessioni dei vari broker. Ma è rilevante perché sarebbe un po' come giocare a blackjack con il banco che vede le carte che ha in mano. Quindi sono leggende, leggende che non funzionano perché io ti parlo di cose che sul mercato non funzionano. Poi entri dentro in GematFX e inizi a capire le cose che funzionano. Per il resto adesso io ti spiego grosso modo le cose che non funzionano. Detto questo, il mercato Forex essendo un mercato efficientissimo è impossibile sfruttare le sue falle. Ma da dove noi capiamo che il mercato è efficientissimo? Dall'allineamento dei prezzi in GematFX. Allora, questa linea qui è il vettore che identifica il prezzo attuale del cross dollaro yen. Lo vediamo qui, lo abbiamo qua. Questo qui è il vettore che identifica il cross euro yen. Ovviamente hanno un prezzo. Se io inizio a cambiare l'unità di misura dalle variazioni e le porto ai tassi di cambio e mi posiziono sul tasso di cambio, vediamo che il dollaro yen ha la stessa quotazione. Anche su euro yen abbiamo la stessa quotazione. Partendo dagli assi troviamo un luogo, una coordinata nello spazio. Spazio in termini che cosa? Spazio in termini monetari. Perché questo è uno spazio. Idem sul franco svizzero. Quindi, andiamo a cercare dollaro franco svizzero. Quindi io mi sposto qui. Posiziono dollaro franco svizzero in ascissa. Euro franco svizzero in ordinata. E vedo che entrambi hanno le stesse identiche quotazioni. 0.9048 anche di euro franco svizzero se volessimo fare i pignoli. Dopodiché vogliamo provare anche dollaro cad. Abbiamo 1.4325. Stiamo qui anche su euro cad. 1.4883. Insomma, che cosa ti ho mostrato? Se stai facendo caso, indipendentemente dalle quotazioni dei prezzi, noi abbiamo un allineamento. E questo allineamento si esprime in quotazioni differenti. Quindi il punto di intersezione yen, che rappresenta l'incrocio tra la quotazione di dollaro yen e la quotazione di euro yen. Il punto di intersezione franco. E il punto di intersezione cad. E tutti gli altri punti di intersezione che adesso non ho tempo di mostrarteli, però te li puoi guardare con calma. Tanto la piattaforma puoi averla disponibile per un po' di giorni. Sono praticamente tutti allineati. E dal momento in cui io prendo la quotazione di euro yen e la divido per la quotazione di dollaro yen, ottengo un valore in termini di euro-dollaro. 1.0391 lo vedi nella croce del mouse. idem prendo la quotazione di euro franco svizzero la divido per la quotazione di dollaro franco svizzero ottengo sempre euro dollaro prendo la quotazione di euro cad la divido per la quotazione di dollaro cad io ottengo sempre euro dollaro vedi che qui c'è un allineamento bene la domanda è perché esiste questo allineamento? trovo a darti una risposta sulla base di che cosa è necessario questo allineamento? questo per evitare un indebito vantaggio perché io potrei acquisire un bene in canada che mi conviene per poi andarlo a rivendere in giappone e farci soldi facili questa cosa è possibile farla? no perché si fa appello alla legge del prezzo unico quindi la parità del potere di acquisto dove la stessa quantità di moneta viene espressa in forme differenti in scale differenti in termini di monete che poi la vanno a comporre quindi noi possiamo trovare euro dollaro attraverso la relazione matematica di euro yen dollaro yen come possiamo trovarlo sulla relazione matematica di franco svizzero come sulla relazione matematica del CAD quindi sulla base di questo concetto noi vediamo che i valori delle monete rappresentanti i valori nominali delle monete sono perfettamente allineate pertanto tanto valore può avere euro yen tanto valore deve avere euro franco svizzero tanto valore deve avere euro CAD per poter mantenere lo stesso allineamento questo perché ipotizziamo che magari euro yen abbia un valore nettamente inferiore rispetto alla quotazione attuale in contrasto alla quotazione di dollaro yen che cosa accadrebbe? se lo disegno il punto di intersezione yen si incrocia a questo livello e cosa succede rispetto agli altri prezzi? succede che la quotazione di euro dollaro non è più confermata rispetto al franco e al dollaro canadese ovviamente questa sarebbe una inefficienza del mercato perché in teoria noi avremmo euro dollaro che la quotazione sarebbe praticamente spostata così quest'area qui sarebbe un'inefficienza utile per entrare buy euro dollaro nei termini di yen perché se io compro euro yen e vendo dollaro yen praticamente io sarei buy euro dollaro quindi io sfrutterei lo yen per una inefficienza di mercato causata da che cosa? dal depreciamento inaspettato e non allineato di euro yen quindi sfrutterei questa cosa per entrare buy euro dollaro composto dai cross sintetici euro yen e dollaro yen ma questa cosa può accadere? assolutamente no non accadrà mai semplicemente perché le banche centrali attraverso algoritmi sofisticati controllano e governano il movimento delle monete affinché le stesse siano allineate in economia è necessario avere stabilità se noi non abbiamo stabilità che cosa accade? nel mio patrimonio i prezzi i beni di consumo sarebbero altalenati quindi l'economia inizierebbe a rallentare l'economia anche micro economia perché se io vedo che i prezzi sono altalenanti il bene che oggi mi costa 100 domani mi può costare 10 per quale motivo devo comprarlo adesso quindi lo compro domani oppure giorno successivo o a t200 capite che è necessario che le banche che emettono moneta mantengano un controllo per sulle oscillazioni delle monete che ci sono in circolazione altrimenti si creerebbero degli squilibri quindi loro potrebbero decidere di apprezzare o deprezzare una moneta per queste stesse ragioni perché a livello macroeconomico noi ci potremmo trovare in una situazione in cui è necessario deprezzare o apprezzare la moneta esistono determinate leve per fare questo tuttavia noi siamo costantemente di fronte ad un continuo e perpetuo movimento dei prezzi perché è questo? beh è normale perché se io ho una traiettoria evidente del mercato da un prezzo A ad un prezzo B è palese che io con altri investitori inizieremmo ad acquistare o vendere determinate monete e cosa accadrebbe in questo caso? la banca centrale si troverebbe paradossalmente in una situazione in cui non riesce più a preservare e a mantenere l'equilibrio perché i pesi si spostano quindi è necessario che le banche centrali attraverso processi stocastici iniziano a modificare l'oscillazione dei prezzi in modo tale che non sia così esplicito la traiettoria finale e l'equilibrio monetario l'esempio che io adesso ti ho riportato ci introduce al discorso finale ossia quello dei volumi molti operatori sono convinti che soprattutto sul mercato forex i volumi siano un elemento importante per il successo del trading ma la macroeconomia smentisce il concetto dei volumi applicati al mercato forex e lo possiamo anche confutare a livello matematico se euro yen e dollaro yen hanno questa quotazione che è allineata con le stesse quotazioni di franco, cad e tutte le altre quotazioni allora significa che noi dovremmo avere la stessa quantità di volume per euro yen, la stessa quantità di volume per dollaro yen e la stessa quantità di volume di euro franco svizzero euro franco svizzero, dollaro canadese ed euro canadese invece nei grafici soprattutto tempo prezzo che cosa notiamo? che gli stessi volumi di euro yen non corrispondono agli stessi volumi di euro franco svizzero, agli stessi volumi di euro cad, agli stessi volumi di sterlina dollaro, agli stessi volumi di dollaro yen quindi che senso avrebbe andare a vedere i volumi quando già gli stessi volumi non sono confermati da regole semplici di macroeconomia e soprattutto anche di matematica perché l'apprezzamento del franco svizzero per raggiungere una quotazione simile allo yen dovrebbe sviluppare la stessa quantità di volumi raggiunta dallo yen e viceversa chiaro? oltre al fatto che il mercato forex è un mercato OTC, over the counter, tradotto significa che non c'è conteggio, non esiste una piazza fisica in cui sono contabilizzati gli ordini di acquisto e gli ordini di vendita perché sostanzialmente i volumi tengono conto degli ordini buy e gli ordini sell, denaro lettera, quindi tanto volume buy, tanto volume sell allora automaticamente la moneta si apprezzerà ma non funziona così nel mercato forex, semplicemente perché è un mercato OTC non esiste una banca dati dove vengono monitorati i volumi delle transazioni per tutte le monete il prezzo di ogni moneta viene determinata da chi la emette, quindi dalla banca centrale stessa e molti potranno pensare, ma io ho il mio broker che mi fornisce i volumi benissimo, controlla quello che io ho appena detto la pari quotazione di una moneta dovrà avere la stessa quantità in termini di volumi perché stiamo parlando di equilibrio e l'equilibrio è come una bilancia una quotazione vale X, l'altra quotazione vale Y però la stessa quantità deve essere allineata quindi se la stessa quotazione è allineata algebricamente ad un'altra quotazione perché deve dare un'ulteriore quotazione e deve garantire l'equilibrio anche gli stessi volumi devono rispettare questo principio algebrico voi dovete considerare il mercato forex come un grappolo d'uva, dove ogni chicco rappresenta un piccolo mercato collegato alla quotazione della moneta che noi stiamo osservando molti broker possono avere anche dei prezzi ovviamente differenti però tutti fanno riferimento alle quotazioni di chi la emette, quindi quando noi lavoriamo all'interno di un circuito broker noi stiamo lavorando praticamente in una millesima parte del mercato e anche se il broker ci mostra i volumi di transato per ogni tasso di cambio noi ci troveremmo con delle divergenze ossia noi vedremo per esempio che ci sono un sacco di volumi di vendita su un tasso di cambio mentre questo tasso di cambio è inarrestabile e continua a salire e questo è molto pericoloso, è molto pericoloso perché l'anno scorso nel depreciamento dello yen molti entravano a ribasso fino a quando poi i conti non sono scoppiati hanno fatto raccolta sostanzialmente perché tutti vedevano volumi di vendita altissimi convinti che il mercato scendesse ma in realtà è continuato a salire per una ragione logica di calcolo i tassi di cambio rappresentano delle distanze queste distanze devono rappresentare un equilibrio e questo equilibrio è rappresentato da questa linea qui è molto semplice quindi attenzione a ciò che trovate in giro o perlomeno oggi voi avete un'informazione in più per poter valutare determinate informazioni se sono vere o false grazie grazie grazie